Presso l'Istituto Comprensivo Sandro Penna di Battipaglia si è tenuta la cerimonia conclusiva del progetto Anch'io Cronista. Tanti ragazzi entusiasti hanno partecipato all'evento, ma per capire qualcosa di più ascoltiamo la parola del referente del progetto Maria Grazia Petrizzo e dell'assessore Fiorillo. Sicuramente la scuola Alici Sandro Penna di Battipaglia con le sue due sedi Cilento e Parmenide hanno lavorato in sintonia in una settimana a febbraio con compiti di realtà legati all'attività giornalistica. La cosa importante è che i ragazzi si sono calati proprio nel mestiere di giornalista, hanno selezionato e ricercato fonti attendibili e quindi hanno montato il pezzo per poi a corredo realizzare anche la cartellonistica che avete visto su tematiche come dicevi importanti e quindi la legalità e quindi l'attualità, la storia, interviste impossibili a personaggi storici come Hitler oppure a personaggi dell'attualità come Chiara Ferragni, ancora personaggi e icone dello sport come Diego Armando Maradona. Questo è un progetto che è un'azione corale. Io voglio ringraziare, qui c'è una delegazione della scuola compatta, innanzitutto la preside Ippolito per questa grande e bellissima opportunità e tutti i colleghi di Parmenide e Cilento che hanno lavorato con i loro ragazzi. Siamo con l'assessore Fiorillo, l'assessore della pubblica istruzione e quindi ovviamente anche delle politiche giovanili. Cosa pensi di questa iniziativa? Questo è un progetto meraviglioso. Anche io cronista insegna l'importanza del linguaggio. Noi abbiamo la fortuna di avere una delle lingue più belle del mondo ma anche molto complessa. Quindi insegnare ad esprimersi ai ragazzi fin da giovane età è qualcosa di importantissimo perché attraverso il linguaggio noi riusciamo a comunicare quelle che sono le nostre idee, i nostri pensieri e Fargo utilizzando i giusti termini ci permette anche di sostenere le nostre idee con maggiore forza. I ragazzi hanno sottolineato più volte di aver utilizzato, nego scrivere i propri articoli, fonti affidabili. Questa è un'altra importante nozione di questo corso perché insegnare i ragazzi a scegliere le fonti a cui far riferimento in un periodo storico come questo dove su internet o comunque in giro troviamo fonti di qualsiasi genere e quindi distinguere le fake news dalle informazioni attendibili è qualcosa di importante soprattutto per chi vorrà poi intraprendere questa professione anche da grande.